Allora in questo video vediamo come trasformare un'immagine HDR a 360 gradi come sfondo del nostro progetto Godot credo di averlo già fatto vedere una volta ma adesso facciamo un progettino completo in cui mettiamo sull'immagine che è un cubo prodotto da Blender, una cosa molto semplice quindi cerchiamo innanzitutto dell'immagine a 360 HDR che ci possano più o meno piacere per esempio possiamo scegliere questa immagine, vedete che è un'immagine abbastanza interessante questo lo salviamo, salviamo l'immagine con nome e ce la salviamo qui la chiamiamo immagine HDR 360 quindi sotto Pictures e poi andiamo sotto Godot e sotto Godot ci creiamo un progetto nuovo in questo caso ho creato un progetto che ho chiamato riflessi cubo video che ho creato poco fa e andiamo a aprire il file manager quindi qua e qui dobbiamo metterci la nostra HDR quindi andiamo a prendere, sappiamo che è HDR 360 eccolo qua pacchio Pictures, la prendiamo, la spostiamo da dove è e la mettiamo da noi e quindi quando andiamo in Godot vedete che ci importa la nostra immagine HDR quindi facciamo proprio clic e vediamo che è questa immagine allora facciamo una tecnica molto elementare per il momento per metterla come sfondo a 360 gradi andiamo nella risorsa default env facciamo doppio clic e qui andiamo sul background e gli diciamo che la modalità è cielo e non è un procedural sky ma facciamo un panorama sky e poi gli mettiamo che il panorama lo carichiamo ed è uguale a questa immagine e vedete che abbiamo il nostro panorama che a questo punto si è sistemato e fin qui più o meno lo sapevamo fare adesso dobbiamo metterci un cubo per il cubo andiamo in Blender il cubo ce l'abbiamo già è quello lì cosa facciamo? dobbiamo semplicemente aggiungere un materiale a questo cubo cioè il materiale in realtà ce l'ha già i materiali sono qua c'è già il materiale e il materiale purtroppo è un materiale bianco vedete che qui ci sono tutte le... eccolo qui c'è le informazioni che sono interessanti speculare e rugosità che poi vedremo che in qualche modo non vengono conservati ma a parte il colore base che magari lo mettiamo appunto verde qui non si vede che è verde perché dobbiamo andare qua nel vederlo così diventato verde mettiamo la specularità a 0 e la rugosità a 1 ok? e la metallicità ci assicuriamo che sia a 0 ok? queste sono informazioni del materiale che poi abbiamo visto nei video che ho appena fatto che sono importanti a questo punto prendiamo questo cubo e facciamo un bel export con l'ADA l'altra volta ho provato GLTF ma riproviamo con l'ADA quindi lo salviamo con l'ADA e lo salviamo però nello stesso posto dove c'è il progetto quindi questo riflessi cubo video ctrl c quindi lo mettiamolo ctrl a ctrl v e lo chiamiamo questo inziché un title lo facciamo cubo cubo blender.dae gli diciamo solo selezioni qui direi dovrebbe in teoria tirare dentro le cose che ci interessano per questa cosa qua esporta con l'ADA se adesso andiamo in Godot vedete che ha trovato e ci ha trovato il nostro materiale che vedete che ha capito che è verde quindi a questo punto se noi clicchiamo su il materiale che ha tirato su andiamo a vedere e vedremo e proviamo a capire qui expand all properties vediamo se specular come è messo ecco vedete che specular nonostante che noi l'abbiamo inserita a 0 è passata a 0,5 quindi la aggiustiamo e prendiamo anche la roughness la rubidità e anche la rubidità io direi la mettiamo il più alta possibile ok dopodiché dobbiamo inserire questo cubo qua dentro quindi come facciamo a mettere il cubo qua dentro ci dobbiamo fare una scena e questa scena la facciamo 3D dentro la scena ci vogliamo mettere il cubo e adesso riusciamo a mettere il cubo nel formato DAE direttamente cubo blender DAE ce l'ha messo effettivamente ma vediamo se riusciamo a muoverlo in qualche modo quindi andiamo qui no vedete che non va bene quindi dobbiamo creare una scena ereditata e la scena ereditata che facciamo lo chiamiamo effettivamente cubo questa scena vedete che a questo punto c'ha sia il cubo che un animation player che adesso andremo poi a usare facciamo CTRL S e questo la chiamiamo cubo andiamo a vedere il cubo come è messo vedete che c'ha le sue particolarità c'è anche la trasformazione e noi vogliamo farlo girare quindi cambieremo la rotazione attorno alla Y per farlo dobbiamo andare nell'animation player l'animation player adesso qui c'è un'animazione che è vuota quindi il nostro obiettivo qui è quella di costruire una nuova animazione e le nuove animazioni le otteniamo facendo quindi ho cliccato su tasto destro qua ok su animazione cliccando col tasto sinistro scusate facciamo nuova animazione la nuova animazione la chiamiamo rotazione cubo e questa rotazione cubo che dura un secondo adesso dobbiamo metterci a far ruotare il cubo andiamo su cubo andiamo sulla sua rotazione 0 va bene pigiamo la chiavita questa crea un punto questo poi andiamo circa metà e qui aggiungiamo un'altra rotazione che per questo punto diciamo 180 anzi addirittura potremmo fare una cosa ancora più da pigri cioè andiamo in fondo a 1 e diciamo che la rotazione finale sarà 360 gradi e facciamo chiave quindi qui andrà tra 0 e 360 gradi se gli facciamo ripetizione e default e poi nelle proprietà dell'animation player qui gli mettiamo che parte con rotazione cubo vedete che sta ruotando effettivamente un pochino troppo velocemente se vogliamo farlo ruotare un pochino più o meno rapidamente gli mettiamo ad esempio 0,1 vedete che rallenta la sua rotazione e a questo punto siamo tornati nella versione che abbiamo visto prima e qui se vogliamo vedete che il cubo è perfettamente opaco e non riflette se volessimo farlo riflettere dobbiamo rimettere le caratteristiche quindi abbiamo detto che specularity dobbiamo metterla così poi dobbiamo prendere ancora la roughness e metterla a 0 vedete quindi che è diventato così e addirittura in realtà ci sarebbe ancora metallic che controlla anche un po' il modo in cui si se noi vedete vedete che se mettiamo un effetto metallico diventa non soltanto verde non soltanto riflettente ma anche con un bel effetto metallico e questo direi più o meno quanto è il meccanismo con cui possiamo ricostruire una mesh da blender partendo da un cubo e la portiamo con l'export collada l'abbiamo visto export collada qui non c'è un gran che di texture ma comunque l'effetto è abbastanza significativo se poi noi facciamo il play di questo dobbiamo selezionare la scena madre non viene la cosa perché 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 manca ancora il manca la camera la camera prendiamo la camera che è quella e la camera la spostiamo lungo la z che sarebbe il blu quindi dobbiamo camera dunque non so se sia il modo giusto no stiamo guardando dalla parte sbagliata quindi sarà probabilmente verso le z positive anteprima e lo vediamo e a questo punto abbiamo il nostro cubo che si muove e quindi abbiamo fatto tutto da zero e credo anche abbastanza velocemente grazie a tutti